Contro lo spreco, contro la fame. È lo slogan della Fondazione Banco Alimentare che per il quattordicesimo anno, in collaborazione con la Compagnia delle Opere, organizza la raccolta di oli omogenizzati prodotti per l'infanzia, tonno, carne in scatola, pelati e legumi che vengono consegnati alle strutture caritative convenzionate con il Banco Alimentare del Veneto. Ne beneficeranno 65.000 famiglie povere della regione. L'iniziativa, che avrà a luogo sabato 27 novembre, in occasione della giornata nazionale della colletta alimentare, coinvolge 9.000 volontari tra alpini, membri delle San Vincenzo e studenti, i quali all'ingresso dei supermercati consegneranno a chi entra una busta per la spesa con l'invito di inserire i prodotti indicati. Ai clienti dei supermercati viene chiesto un gesto di solidarietà. Crediamo fermamente che questa giornata nazionale della colletta alimentare sia un'occasione per tutti di compiere un gesto di carità, che è in primis un gesto verso noi stessi che poi si traduce in un aiuto agli altri. Però crediamo fermamente che la giornata nazionale della colletta alimentare sia un'occasione per ciascuno di noi di vivere la carità con le nostre mani. Gli organizzatori della giornata nazionale della colletta alimentare ogni anno lanciano proponendo una diversa riflessione con la formula delle dieci righe. Quest'anno le dieci righe sono tolte dall'enciclica Caritas Inveritate, laddove viene ricordato che il povero è un uomo solo e che la carità è il dono più grande che Dio ha fatto agli uomini perché è amore ricevuto e amore donato. Noi scegliamo un messaggio perché vogliamo che la gente che partecipa alla colletta sappia che cosa sta facendo, quindi che non sia un gesto automatico. Il Papa ci è maestro, il Papa ha indicato che cos'è la carità e noi riteniamo che l'acquisto di alimenti per altri sia un gesto semplice ed elementare che dice molto chiaramente che io voglio aiutare ma voglio anche essere aiutato, voglio essere amato dalla persona che incontro e quindi risponde a un bisogno che è verso gli altri ma è anche un bisogno di riconoscere che io manco di qualcosa e quindi anch'io sono un povero.